Salsolungo, salsopiatto, lì in mezzo troviamo il rifugio Demetz. Andremo a fare oggi il giro del salsolungo, salsopiatto, passando per il rifugio Fredrick Agusto, il rifugio Pertini e chiuderemo poi l'anello verso i rifugio Comici, passando attraverso la città dei Sassi. Salsolungo, salsopiatto, 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 la città dei Sassi. Salsopiatto, la città dei Sassi. Salsolungo, salsopiatto, la città dei Sassi. 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 E eccoci che arriviamo a chiudere l'anello. Abbiamo fatto praticamente il giro del Sassopiatto, Sassolunudo, di senso orario. Lì sullo sfondo intanto la molada. E con la rodella qui davanti a noi. E dicevo, è stato un bellissimo giro. Un giro turistico. nel quale abbiamo incontrato tantissima gente. Forse troppa. A presto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.